I tassi di disoccupazione giovanili sono uno scandalo, uno scandalo che non solo richiede di essere affrontato anzitutto in termini economici, ma che va affrontato anche e non meno urgentemente come una malattia sociale dal momento che la nostra giuventù viene derubata dalla speranza e vengono sperperate le sue grandi risorse di energia, di creatività e di intuizione. È la riflessione con la quale Papa Francesco ha colto in Vaticano i partecipanti alla conferenza internazionale promossa dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Papa Bergoglio ha salutato con soddisfazione l'impegno dell'istituzione a costruire quella civiltà dell'amore che abbraccia l'intera famiglia umana nella giustizia e nella pace, mettendo a fuoco alcune delle urgenze contemporanee. Oltre alla disoccupazione giovanile e alla lotta alla povertà, il Pontifice ha nuovamente parlato della crisi dei profughi, soprattutto alla luce della sua recente visita all'Esbo. La comunità internazionale ha detto e chiamata a individuare risposte politiche, sociali ed economiche di lungo periodo a problematiche che superano i confini nazionali e continentali. Papa Francesco ha infine invitato tutti a promuovere un'economia che non sia esclusivamente orientata al profitto e al benessere materiale, un'economia dell'esclusione e dell'iniquità, ma che favorisca lo sviluppo integrale dei popoli del mondo.